martina colombari l'ex reginetta di bellezza e volto noto della televisione italiana ha sempre mantenuto un profilo discreto riguardo alla sua vita privata soprattutto per quanto riguarda suo figlio achille costacurta tuttavia dopo un periodo di assenza dai social e le recenti notizie sul giovane la colombari ha deciso di rompere il silenzio achille che ha intrapreso un percorso di disintossicazione in spagna ha recentemente condiviso un messaggio sui social dichiarando di essere cinque giorni senza alcol e droga questo post ha suscitato un'ondata di interesse e sostegno da parte dei suoi follower la decisione di achille di affrontare i suoi problemi di dipendenza pubblicamente ha colpito profondamente la madre che ha deciso di parlare apertamente della situazione martina colombari ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto e la sua fiducia nel percorso di recupero intrapreso da suo figlio la sua testimonianza ha toccato il cuore di molti che hanno elogiato il coraggio e la determinazione di entrambi questo momento di vulnerabilità e sincerità ha reso martina colombari e achille costacurta ancora più vicini al pubblico che ha potuto apprezzare la loro autenticità e umanità la storia di achille è diventata un simbolo di speranza per chiunque stia lottando contro le dipendenze dimostrando che è possibile superare le difficoltà con determinazione e sostegno la colombari e suo figlio hanno dimostrato che nonostante le sfide e i momenti difficili è possibile trovare la forza per affrontare i propri demoni e guardare al futuro con ottimismo la loro storia è un esempio di resilienza e amore che ha ispirato molti a non grazie a tutti Grazie.